Il primo ringraziamento è stato alla Prologo di Platania, quindi a Paolo Nicolazzo che è il presidente ma è coordinatore, è stato veramente un lavoro eccezionale quello che ha fatto in questi ultimi anni e soprattutto quello di portare dietro l'esperienza e la tradizione di Platania e dei platanesi, il problema è sempre quello, se la Prologo funziona allora tutte le nostre tradizioni, tutto ciò che è cultura del nostro territorio viene proiettato e viene trasportato nel tempo, se invece si interrompe il lavoro della Prologo ci sono poche associazioni che vogliono e hanno voglia di continuare questo lavoro, questo è un lavoro che noi facciamo gratuito e lo vogliamo raccontare perché lo abbiamo detto anche ieri sera, il sindaco e tutte le persone che sono intervenute hanno voluto precisare un discorso di questo genere, ma noi lo diciamo sempre e diciamo anche che abbiamo bisogno di tanta gente che lavori e la pensi come noi, cioè mettersi a disposizione del territorio significa mettersi a disposizione anche del nostro futuro, perché è chiaro che nel momento in cui noi abbiamo un territorio che è bellissimo, pieno di attrattori, pieno poi di incubatori, di strutture che sono state costruite negli ultimi 20-30 anni nei nostri luoghi, beh allora se questa cosa non la mettiamo in disalto e se non siamo noi, ma chi vogliamo che venga qui a dire ora vi facciamo la pubblicità del vostro territorio, no la dobbiamo fare noi, allora se questo è vero finalmente i giovani dovranno cominciare a ragionare anche in altri termini e non soltanto in quei termini dell'immediatezza come fanno ormai con noi internet, i tempi sono così distretti, ma devono rispettare anche quei tempi che sono i tempi di chi deve condurre per mano le esperienze che ci sono state in tutti questi anni e 40 anni sono stati veramente tanti, la descrizione di Paolo nella sua relazione è stata una descrizione a grandi linee, ma noi sappiamo ogni parola che cosa è significata, sono anni anni di lavoro e sono centinaia e centinaia e migliaia di ore di lavoro che il Consiglio di allora da 40 anni ad oggi ha fatto e ha donato per il territorio stesso, sono contento tra l'altro che questa è una Prologo che lavora in simbiosi con le istituzioni, per cui significa veramente che questo sindaco come tanti altri al giorno d'oggi e tanti presidenti di Prologo hanno capito che non possono camminare da soli, ma devono camminare insieme e devono camminare insieme anche con le associazioni del luogo, difatti da alcuni anni io continuo a dire a tutti i presidenti di altre associazioni non chiudete le associazioni, è vero che non ci sono risorse, però attenzione, se vi collegate con noi facciamo uno scambio di una cosa ancora più importante, delle risorse umane, perché ogni associazione ha delle risorse umane e dell'esperienza che non deve far disperdere, allora collegate con noi, col mondo delle Prologo, siamo 200 soltanto quelle nostre dell'UMPLI in Calabria che formano 10-15 manifestazioni ogni anno e quindi sono migliaia di manifestazioni che vengono donate al territorio, se vi collegate con noi, noi lo diciamo sempre, noi certamente vi faremo fare la bella figura di chi ha il diritto di avere un'immagine positiva se lavora seriamente per il proprio territorio, abbiamo sentito tanti parlamentari che provengono dall'estero e quando vengono qui in Calabria le cose che ci dicono sono sempre le stesse, tentate di portare avanti nelle prime pagine le cose positive, perché quando arriva oltreoceano una cosa negativa è chiaro che distrugge anni e anni e mesi di lavoro che noi facciamo in quelle altre nazioni e questa è una battaglia che io come UMPLI, io come Presidente regionale sto facendo ormai da qualche anno, lo dico a tutti i media, è vero che bisogna dare anche la notizia brutta, però è anche vero che ci sono delle bellissime giornate, delle bellissime cose che i calabresi fanno e guarda caso non vanno mai a finire in prima pagina, cominciamo a metterle in prima pagina perché è importantissimo, 40 anni di sacrificio di una prologo, 40 anni con un lavoro in mane, con Paolo, perché adesso è il terminale, Paolo Nicolazzo che è anche il mio segretario regionale dell'UMPLI che sta lì a tentare di aiutare tutti e di portare avanti tante tradizioni per non farle disperdere, beh anche questa può essere una bellissima notizia da mettere sempre in prima pagina. Grazie per tutto quello che fate.